In primo piano l'emergenza dovuta al coronavirus in Abruzzo, all'indomani della nuova ordinanza firmata dal governatore Marco Marsiglio che dispone, che da domani al 25 aprile dispone la zona rossa e quindi misure restrittive in tre comuni della provincia di Teramo, sentiamo cosa ha detto il sindaco di Giulianova Ivan Costantini che esprime la sua contrarietà nei confronti del provvedimento regionale e a Giulianova per noi in diretta c'è Massimo Profeta, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Giuliano, a tutti gli amici in visione e all'ascolto, vi parliamo proprio allo splendido scenario del belvedere di Giulianova, come hai detto proprio benissimo tu da studio Giulianova, da domani in zona rossa per quattro giorni fino a domenica 25 aprile compresa. Abbiamo naturalmente intervistato il sindaco Costantini che si è detto piuttosto rammaricato, anche incredulo perché questa ordinanza emanata ieri dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio è stata dettata da un incremento in settimana di 57 contagi, quindi 57 casi, un incremento negli ultimi sette giorni per un totale di 157 casi attivi su una popolazione di 25 mila abitanti. È la prima volta di Giulianova in zona rossa dopo naturalmente il lockdown dello scorso anno, ma ascoltiamo il sindaco Costantini. Sindaco Costantini, è un provvedimento questo inevitabile o inatteso? Probabilmente più inatteso che inevitabile. Ma assolutamente inatteso, ho visto il numero dei contagi complessivi per una città di 25 mila abitanti. Comprendete bene che noi in questo momento abbiamo solamente 157 casi attivi ed è uno dei numeri più bassi che abbiamo avuto negli ultimi mesi, quindi assolutamente inatteso. Un provvedimento che si porta dietro delle problematiche incredibili perché la nostra città è una città che prevalentemente vive di commercio e di turismo e comprendete bene che con queste belle giornate anche quei commercianti che riuscivano magari a lavorare dopo tanto tempo li dobbiamo un'altra volta fermare. Ricordiamo anche qual è stato l'incremento dei contagi in questa settimana per portare il Presidente Marsilio ad emanare questa ordinanza? È un incremento di appena 57 casi che però sul totale che avevamo attivi sono un terzo e quindi le nuove regole che vanno ad applicare comprendete bene che secondo me sono assolutamente scellerate perché così facendo basta un intero nucleo familiare come è capitato a noi che probabilmente non ha rispettato le regole della Pasqua e della Pasquetta che fa finire un'intera città all'interno di una zona rossa con dei danni economici incredibili, quindi dobbiamo stare molto attenti, invito i miei cittadini nei prossimi quattro giorni perché saranno solamente quattro giorni in zona rossa perché abbiamo chiesto un monitoraggio attivo che non è più previsto, quindi si va in zona rossa e poi si va a monitorare, abbiamo chiesto un monitoraggio attivo per quattro giorni e ci auguriamo il 26, il giorno in cui tutta l'Italia dovrebbe tornare gialla, di tornare anche noi qui a Giulianova perché i numeri ce lo permettono. Giulianova città, lo ha detto Pocazzi, è vocazione turistica, turismo, commercio soprattutto, è la prima volta in zona rossa? Giulianova è la città che ha il maggior numero di presenze turistiche della regione Abruzzo, con oltre 600 mila persone, quindi andiamo per la prima volta in zona rossa e mi fa veramente sorridere perché ci andiamo con solamente 157 casi attivi, quando abbiamo avuto dei mesi anche con 600 casi attivi e non siamo andati in zona rossa. Le faccio l'ultima, le reazioni, insomma le comprendiamo da parte appunto dei commercianti, lei è stato subissato di telefonate sin dalla serata di ieri? È normale, fa parte del gioco, è il nostro lavoro, in questo momento noi siamo l'ammortizzatore tra il governo regionale e la trincea, quindi le persone che in questo momento stanno soffrendo di più, lo facciamo molto volentieri ma comprendete bene che è nostra, la responsabilità non è nostra, è sicuramente di chi ha firmato determinati tipi di provvedimenti e siamo sempre attenti noi invece sul territorio affinché si possano evitare gestendo delle situazioni al limite come quelle che purtroppo riscontriamo ogni fine settimana come succede a Pescara, all'Aquila e a Termo, nei grandi centri, nelle piazze di maggiore aggregazione. Dunque Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura in zona rossa fino al prossimo 25 aprile, ci sono anche altri comuni con maggiori restrizioni. Massimo, intanto ringraziamo il sindaco Ivan Costantini che aveva impegni, pertanto hai realizzato l'intervista prima del collegamento in diretta. Con Andrea Berardinelli avete incontrato anche dei cittadini lì a Giulianova, quale clima si respira? Beh sicuramente c'è grande rammarico anche da parte dei commercianti, anzi io sono entrato proprio poco fa, se può servire come testimonianza in un bar e il proprietario è stato tra l'altro molto gentile qui nei pressi del Belvedere e diceva proprio questo, ci sono stati pochi casi, un incremento di soli 57 casi in questa settimana, è chiaro che questa zona rossa va a penalizzare la nostra attività, del resto Giulianova come ricordava il sindaco Costantini è una città che vive di turismo, di commercio, una città proprio viva sotto questo profilo. Tra l'altro il sindaco, il primo cittadino, diceva che ci sono stati momenti in cui i casi attivi erano 600 ma Giulianova non era mai finita in zona rossa, ecco perché c'è grande rammarico, c'è incredulità, ecco abbiamo notato proprio nelle parole del sindaco tanta tanta incredulità. Io ringrazio Andrea Berardinelli e Gigliola per la parte tecnica, lo hai già fatto tu, per il momento è tutto, la linea può tornare a te.